Allora come sta a sconto? Allora, al tiro ci pazza dei cecventi in questi eventi per puntare ci sono usciti in linea di fortezza Sì, va 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 Dai, dai, dai Dai che va, vai che rio Vi ricordo che questo trattore precedentemente nella categoria Presidente della Roma che ha ottenuto il tempo migliore ecco perché ha voluto provare anche in seconda categoria Oh